Ciao a tutti i jazzisti e benvenuti in questo nuovo let's play, ovvero su Jazzpunk un gioco uscito un paio di giorni fa su Steam, se non sbaglio, forse anche di più non mi ricordo di preciso, comunque sia, io direi di iniziare subito allora, non so di cosa parli in gioco, comunque è in prima persona e i comandi ho visto che sono i classici WAST per muoversi e il mouse per cambiare la visuale ed è per interagire con gli oggetti, oppure si può premere anche il tasto sinistra e il mouse wow, quello sicuramente, lì sicuramente non c'è un nuovo proprio sicurissimo che lì non c'è un nuovo si capisce che è sarcasmo sembra un intro, la Austin Power troppa danni sentando musica, sembra che debba arrivare da un momento all'altro con la musichetta che hanno messo intro interminabile si, siamo nel gioco, bene ah, non posso correre, però è già abbastanza veloce ok, 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 ve ne vado c'è proprio una città più inglese non poteva... no, voglio andare ok, ok, mi siedo, mi siedo ok, bene hello No! Mamma mia! Ok Ok Non prendi troppo pieno Ah, perchè? Se mi chiedi, sarò il mio salato di wine Oh, cavolo! Oh, sarebbe... Ah, la missione è sopporti... No, 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 aspetta, ok Ah, quindi quando prendo la pillola inizio la missione, è buono sapersi Ma perchè quando la prenderemo il premuto lì, non lo so Ok Infiltrate the Soviet Consulate, ok Dobbiamo infiltrarci nel Consulato Sovietico E su, levati Oh, ah Penso di sapere cosa bisogna fare, ok Allora Infiltriamoci nel Consulato Sovietico Salve Sì 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 Non ho appuntamento Mamma mia Sì, non mi interessa Allora, andiamo un po', ma se io invece provassi a passare di qui Sì 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 Che caccia Sì 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 No Sì Chiaccio Sì 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 ok penso che si possa andare avanti top secret top secret da o nulla per tutto se con l'invento lì ero chiù ok dai ma come dai ma si attiviamo tutto ragazzi non ho la cartiglia come no ok devo trovare la carta ok allora devo tornare indietro ok ah che cacchio ah bene ah ok grazie per esserti infiltrato perfetto basta voglio uscire ok belli andarcene via da qui ora che ho il disco rigido posso anche andarmene si vabbè la solita scelta di prima yeah scarico da lavanderia perfetto mamma mia che cazzo è questo oh mangia pesciolino mangia ho detto guarda tre rimbalzi guarda mangia yeah no 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 si a vista lineare che cacchio è quello c'è reni artificiali che cacchio è un'altra cosa ah devo estrarli ad ogni costo da dove ma se non mi piace ho una linea per installare aspetta aspetta cioè i piedi sono qui sopra ma che cacchio ehm scusi no è che lasciamo perdere ma iniziamo la missione tipo subito yeah oh cowboy follow the cowboy ok andiamo vai oh ragazzi ok 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 no no me ne vado tranquillo scusami scusami questo cos'è a fare servizio si dimmi cara che ti serve vai caccia le mosche si vai vaffanbaglio vai rompo tutto dove siete maledette li prenderò tutte cos'è quello a cina col cosa a giappone con la bandiera della marina aspetta qua ci vuole abilità eh aspetta qua ci vuole abilità eh porca matina ragazzi pare facile ma non è mamma mia vai i vuoi dai vai per te prenderò della faccia teabag teabag bitch senta qui vicino a me c'era un cervello ah ti piace ah non entra qua dentro ma tu vai qui perché mi facevi la musicezza in là mamma mia proprio totalmente mamma mia sii in faccia io l'ho lanciate ok ora disinvolto ah mi ricordo dimmi perché quel deficiente non mi da oh madonna santa benedetta in croce che cazzo è questo ah ah ok ne erano 5 in totale 2 3 adesso raccoglierò ok allora altri 2 ragni devo trovare non so se sono in questo locale o se devo andare a beccare in giro per la città 4 bene non l'ho trovato vale ragazzi vai così bene perfetto allora ecco il quinto bene ah devo ammazzarlo prima questo non va bene vai ok perfetto raccoglierò ragazzi si va perfetto amico mio i ragni sono serviti no ok allora hai un tecnica uh ho capito 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 bene Succa la fava Wow ragno Credo di averlo ucciso Si Oh cacchio Madonna Oh Ok ah Ma c'era un altro danno qui Io non lo sapevo Ne avrei potuto avere 6 Ah quello è un codice Per la realtà aumentata ma Prenditi questo infatti Questo voglio che ti prendi Va fangulo Una cazzi Ok forse è meglio nascondere questo Vai vai grande così Questo che è che non devo stazionare il piscià Dai ragazzi Tutto bene dai ragazzi Eh beh si Bowling esatto amico esatto Questa è la tua ultima chance Vaffanculo Non ne voglio ne vera Vai grande così ragazzi Bene Perfetto E l'avventura su Jets Punk continua Ciao bello c'è Ciao Ah wow Una luce potente C'è un bel sole Bello tosto Ok ah Ok Accendi questo incenso Bene Ok Ingenottiti C'è un bel sole Ehm No Tutto in da buio sono cieco Fantastic work Now I can finally make my steak and kidney pie That last job seems to have attracted us a bit more heat than usual We'll have to wait for things to cool down a bit In the meantime I'll set you up with a vacation Ah All expenses paid trip to Kai Tat resorts Ehm Now go home Get some coffee You look like you can use it Ah Ah Dovevo arrivare qua Mi sono fatto tutto quanto il giro Per arrivare lì Grazie gioco Grazie Sei il migliore Va bene ragazzi Però ci concludo qui questo episodio di Jets Punk Spero che il video vi sia piaciuto E se è così vi invito a lasciare un mi piace E un commento che aiuteranno sicuramente il video a crescere E aiuteranno anche me ad essere più conosciuto Quinti please Detto questo ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao